La FIABA Grazie! Questo è profumo di torta! Grazie! Attenta con quello, mia cara. Non vorrei iniziarsi qualcosa che non puoi fermare. Siamo lieti di conoscervi. Mi chiamo Gretel e questo è il mio fratellino Ansel. Qui c'è qualcosa che non va. Però è così accogliente. Dove sono gli animali? Da dove viene il latte? Gretel, sta arrivando una tempesta. Questo è il tuo potere. Vedere ciò che è nascosto e afferrarlo. Ci è stato dato lo stesso dono. La stessa magia. Gretel! Ansel! Cosa gli avete fatto? Non c'è altra scelta. Dobbiamo renderlo... Delizioso!